Abruzzo zona bianca, piscine finalmente fruibili e anche al chiuso insieme alla possibilità di accedere a spogliatoi farsi una doccia che sa tanto di conquista. Dopo il disco rosso che è andato avanti dallo scorso mese di ottobre il sospiro di sollievo riguarda i centri fitness e appunto le piscine utilizzabili fino al colore bianco solo in spazi aperti. Adesso invece si può anche all'interno molte strutture sono pronte così a rimuovere dalle piscine al coperto teloni protettivi per un nuovo inizio. Adesso siamo pronti a scoprire la piscina dopo tanto tempo e da ottobre che aspettavamo questo periodo. Adesso si può fare ancora poco in realtà perché aspettiamo ormai la stagione nuova. Aspettiamo settembre e ripartiremo con tutte le attività che solitamente proponiamo più le solite novità per la nuova stagione. Valgono sempre le stesse, distanziamento, un buon senso sicuramente quello non manca mai e mascherine fino alla zona di allenamento. Almeno ripartiamo e adesso ci vuole un po' di entusiasmo sia da parte nostra che da parte dei nostri fedeli clienti. La stagione calda non è comunque propizia ad affari d'oro, per adesso però ci si accontenta e il settore ha sofferto. Proposto attività consentite tra mille sacrifici accolto quel poco che è arrivato come ristoro per tutti gli addetti. si volta pagina così sperando in un futuro migliore.